In riabilitazione ortopedico-sportiva si stanno sempre più introducendo delle metodologie che consentono una valutazione molto più raffinata del gesto motorio. Se fino a qualche anno fa ci si occupava solo della riparazione, ricostruzione del legamento rotto, in questo caso del legamento crociato anteriore, attualmente ci sono a disposizione delle metodiche molto più avanzate per occuparci del riallenamento del cervello. Detta così sembra un po' forte ma in effetti è un modo di studiare i comportamenti motori dell'atleta per vedere esattamente se ha dei fattori di rischio di una nuova recidiva, di una nuova lesione. Questa naturalmente sarebbe dell'eteria per qualunque giocatore di qualunque sport e in particolare mi riferisco agli adolescenti che magari subiscono un intervento per una ricostruzione del legamento crociato, hanno 17-18 anni e il rischio di un nuovo intervento, una nuova lesione sarebbe molto deleterio per la loro salute futura. Quindi stiamo sempre più orientandoci nel vedere il comportamento motorio e questo avviene con l'utilizzo di videocamere, di piattaforme di forza, di video wall e far vedere direttamente al paziente e quindi sviluppare molto la sua capacità visiva nell'individuare quali sono gli errori di movimento che mettono a rischio le articolazioni. Fatto questo si destruttura il movimento, lo si ricostruisce e alla fine si prova a dare una nuova componente motore, una nuova capacità motoria all'atleta per riprendere e fare la sua attività in assoluta sicurezza.